...a sinistra, appena un attimo prima, che canta di Brassi. Ci sono pensieri che non riesci a trattenere, ci sono pensieri che lo vanno sentire come se andassi a tutta velocità e l'untura in equilibrio sopra un asse di legno che corre su due rotaie, lo fanno restare senza piano. Allora cerca di ricordare le manche di gelato disponibili nel chiosco e nel fratto della piscina, una dopo l'altra. Cerca di ricordare la distanza in chilometri tra la piscina e il paese, poi trasforma in chilometri in un metro. Cerca di ricordare il numero che aveva dietro il sedile sull'auto in sonnannata, quello che aveva dietro. Da qualche parte del mondo c'è un uomo che riesce a sorridare a due, quattro uomini per un totale di 380 kg mentre vedava su una bicicletta di una sola volta. Alessandro lo sa, è successo nell'89 in aprile. Ma quali erano le condizioni meteorologiche? Il numero degli spettatori? E' una piazza per la compagna? E quali sono stati le prime parole che hanno bruciato la treta dopo aver fatto tutto il nuovo reto? Padre bianca, è successo nell'89 in compagna? E non fermò di 300 secondari Comuncare la distanza in scuola? Adesso in botte di libriare, cerca d'olettore che vantucacolore, cerca di ricordare cominciare da comunicazione, mi pare che lo erano delle cose, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.